Molto, molto caloroso! Io spero di avervi allietato assumendo e vestendo i panni da presentatore occasionale Ora smetto i panni da presentatore e indosso quelli da cantante che mi si addicono un po' di più E per salutarvi chiamo i miei colleghi, naturalmente tutti, che sono dietro le quinte Un ringraziamento di gran cuore da parte di tutti i miei colleghi Alla nostra manager, che è molto importante, Francesca Savini Grazie Chiamo i colleghi che sono dietro a bivaccare, io qua ho sudato sette camice per fare il simpaticone Invece sono un testa di cavolo Assurdo! Salutiamo i fratelli ragazzi! Sei bravissimo, un applauso a Fenerito! Grazie Di più! Hanno urlato fin troppo, guarda, noi dobbiamo fare un piccolo omaggio, vero? Esatto, ma prima di quello omaggio, facciamo un pre-omaggio Non fate pre-omaggi perché io me ne vado, eh? No, no, questa è qua, non succede niente, non succede niente Perché? Allora, niente, perché... No, prima voglio dirla però Perché abbiamo perso una grande persona, un grandissimo artista, Michael Jackson Allora, volevamo... Grazie Perché, se posso aggiungere una cosa, ci vuole veramente tanto per diventare Michael Jackson E ci vuole veramente poco per smontare una persona con Michael Jackson Quindi noi vogliamo ricordarlo con la sua musica e vi facciamo ascoltare a cappello un pezzettino di... Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying In the care of life for living Make it a better place for you and for me Ok Grazie Grazie Io chiamerei anche Maria Zaffino Chiamerei Adriano Chiamerei Susi Andreina Penso che siamo tutti Ecco Per voi Ecco Sì Ecco Vi Acuno Ermo No Grazie a tutti.